Gertrude può andare, finisca di preparare un'unità sola, ok? Non ce la faccio più, io non ce la faccio più Un altro ballo, il quarto questa settimana, il ventesimo in un mese Io non ce la faccio veramente più Tutti questi tessuti in oro Questi gioielli Tutte queste perle I diamanti E i tessuti preziosi A cosa servono? A cosa servono se tanto Se tanto io dovrò sposare una persona che non scelgo Se non ho libertà Se la mia vita è stata scelta ancora prima che nascessi Sogno di vivere in un'epoca in cui le ragazze sono libere e in cui non sono una principessa In cui posso scegliere la persona da amare Posso vestirmi come voglio Posso studiare tanto quanto i miei fratelli Sognavo di essere perché no nel 2019 Chissà come sarebbe E' stato com'è? E' stato com'è? E' stato com'è? E' stato com'è? Un momento Un momento Ma dove mi trovo? Questa Questa non? Questa non è la soffitta di casa mia o meglio sì, lo è, ma è diversa, c'è qualcosa di molto strano, l'arretamento non è lo stesso e poi quella sedia lì non c'è mai stata e quel baule e quei pupazzi questo cofanetto era vuoto, giuro era vuoto e adesso è pieno di gioielli qualcosa non torna? è possibile che abbia solo sognato? ero qui fino a un momento fa e stavo ascoltando la musica di questo carillon cauli questa sembra davvero molto preziosa e dallo stile antico che bella ma di chi è? è qui? qui c'è? è una boccetta e contiene una rosa non posso crederci queste cose non sono mie devono appartenere alla principessa forse il mio desiderio è stato esaudito il cofanetto lo riponiamo è sicuramente accaduto qualcosa una sorta di incantesimo e devo essere stata trasportata magicamente nel passato guarda quanti strani oggetti cos'è questo? è un pentolino di rame questi non si usano più da un'evernità è davvero bellissimo lo adoro immagino che la principessa preparasse il suo tè con questo pentolino spero che nessuno mi senta e poi vediamo che altro c'è oh ma che bello cosa facettamente? e adesso andiamo a dare un altro cibo ora, guarda una fata forse è uno dei giocattoli della principessa è davvero molto bella chissà se la principessa le assomigliava io la immagino con i capelli biondi raccolti forse erano corti deve essere stata una principessa non convenzionale per la sua epoca ho un libro un vecchissimo libro narrala di donne combattenti e coraggiose ne ero sicura la mia principessa deve essere stata un'eroina e non deve essere stato facile per lei vivere in quell'epoca forse si sarebbe trovata meglio nella mia chissà e invece a me questa epoca piace da impazzire ma quello è uno specchio è bellissimo uno specchio argentato vedo la mia immagine si anche dietro di me è tutto diverso di quei drappi decisamente non sono nel 2019 è incredibile e questo questo sì che è bello è uno dei suoi giocattoli è uno dei suoi giocattoli è davvero incredibile non trovo le parole per descrivere tutta questa bellezza io voglio restare qui altri pezzi antichi un orologio un orologio che strano è fermo è fermo e segna la stessa ora chissà da quanto tempo o forse il tempo si è fermato proprio adesso forse sono sospesa in questo spazio tempo forse sarà così per sempre magari mi risparmio la festa di Halloween di oggi voglio indossarlo mi porterà fortuna come un omoleto un altro sgrigno vediamo un po' questo è un altro sgrigno questo è un argento pura vediamo un po' cosa c'è dentro è pieno di perle non ho più dubbi di sicuro queste cose appartenevano alla principessa e di certo io sono nella sua epoca e magari posso prendere il suo posto e posso cambiare la storia non mi resta che uscire e vedere che c'è qua fuori non mi resta